Arrivano dal comando provinciale dei carabinieri le raccomandazioni soprattutto dirette alla popolazione anziana che durante l'estate è particolarmente vittima di tante truffe. Un vero e proprio vademecum con i consigli utili. Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate dagli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa. Non mandate i bambini ad aprire la porta. E poi ancora, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata. In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, dicono ancora i carabinieri, chiedete che vengano lasciati nella cassetta delle lettere. Prima di fare entrare chiunque, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare un tesserino di riconoscimento. Se poi, inavvertitamente, avete comunque aperto la porta ad uno sconosciuto e per qualsiasi motivo vi sentite a disagio, non perdete la calma. Invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta, apritela e se necessario ripetete l'invito ad alta voce. In generale, per tutelarvi dalle truffe, dicono ancora i carabinieri, diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti. Non partecipate a lotterie, non accettate in pagamento assegni bancari e non firmate nulla che non vi sia chiaro.